Allora, gli aerei spariscono nel triangolo dei Bermuda, il segreto cos'è? Il misterioso segreto. Vengono rizzucchiati da un tunnel per viaggiare nel tempo, da un portale gli aerei e passano in un'altra dimensione. Il portale si trova nel cielo. Abbiamo esaminato che alcuni UFO aprono il portale, c'entrano dentro e dalla parte opposta non si vede niente. Quindi il portale è un tunnel per viaggiare nel tempo. Oggigiorno si può viaggiare nel tempo, anche io ho viaggiato nel tempo, col teletrasporto. Me l'hanno lasciato gli aerei e poi me l'hanno porto via per non copiare la tecnologia ai terrestri. Non devono copiare tale tecnologia, se non sarebbe un disastro. Gli aerei viaggiano in questo triangolo delle Bermude e ogni anno spariscono una decina di aerei, dovevano finire. In mare non cadono, non li ruba nemmeno Fidel Castro gli aerei, no. C'è un tunnel nell'aria, in quel punto tra Cuba, che vengono risucchiati gli aerei in questo tunnel per viaggiare nel tempo e un portale. E poi dopo vi spiegherò anche un altro portale che abbiamo messo sulla Luna. Un portale sulla Luna. Questo non è stato messo dalla nostra razza aliena, è stato messo da un'altra razza aliena. Sto messo dai ritigliani questo portale. E' un portale dei ritigliani dove vengono risucchiati gli aerei. Ogni anno spariscono, dicono, non cadono in mare. Vanno a cercare in mare e gli aerei non ci sono. E quindi dove sono gli aerei? Hanno scoperto questo cerchio grande grande nell'aria, questo portale. Il portale è un tunnel per viaggiare nel tempo. Alcuni aerei nazisti, scomparsi nel tempo della guerra, sempre in questo triangolo del Bermude, compaiono oggi nell'epoca del 2018, quindi viaggiano nel tempo. Anche Hitler ha viaggiato nel tempo. Col teletrasporto. Questo è una specie di teletrasporto, è come un teletrasporto. Questo tunnel temporale che definiamo Stargate. Stargate nell'aria, lo Stargate nel cielo. Gli aerei entrano dentro questo tunnel temporale che viene nel tempo e spariscono completamente. Non vengono risucchiati. E' come un buco nero dello spazio, questo è il tunnel. Lo Stargate. Grazie di avermi ascoltato. Grazie.